Scatta l'ultimatum per i cantieri lenti. Il Comune cerca di accelerare così la ricostruzione privata con i commissariamenti. Finora i 60 commissariamenti su 400 potenziali riguardano consorsi inadempienti, quelli che sono cioè costituiti ma che non vanno avanti. Da un studio degli uffici viene addirittura fuori che ci sono proprietari che non hanno mai presentato la domanda di contributo pur avendone i requisiti. Per questo il settore ricostruzione privata dell'assessore Roberto Tinari ha emesso un avviso con il quale vengono assegnati 30 giorni di tempo per manifestare l'interesse al commissariamento degli aggregati da parte di quei proprietari che non hanno presentato domanda. Si agirà, ha spiegato l'assessore, anche per quegli immobili cosiddetti irrintracciabili. Il Comune insomma non vuole buchi neri nella ricostruzione di città e frazioni. L'avviso è affermato dal dirigente Roberto Evangelisti che fa riferimento all'ordinanza del 2009 che stabiliva anche le tempistiche. Nella missiva si spiega appunto che per alcuni immobili non sono pervenute domande e quindi può avviarsi il commissariamento. Le domande di manifestazione di interesse dovranno arrivare in via telematica.